Musica In questa puntata di Unicam News, inaugurato oggi il 678esimo anno accademico di Unicam, anche Unicam Darwin Day all'Università di Camerino tornano i corsi Planet per gli studenti Unicam. Unicam collabora con le scuole del territorio per un progetto innovativo di formazione. Ben ritrovati a questo appuntamento con Unicam News, abbiamo sentito i titoli, allora partiamo subito con il primo servizio. Voi siete la nostra speranza, voi siete la nostra certezza, voi siete il nostro orgoglio. Con queste parole rivolte agli studenti e a tutti i giovani, il rettore Flavio Corradini, con entusiasmo ed emozione, ha dichiarato aperto il 678esimo anno accademico dell'Università di Camerino. L'evento, tenutosi stamane al Teatro Filippo Marchetti, gentilmente concesso dal Comune di Camerino, si è aperto con i saluti dei rappresentanti degli studenti, degli studenti stranieri, del personale docente e ricercatore, del personale tecnico e amministrativo, del sindaco di San Severino Marche, Cesare Martini, a rappresentare la consulta permanente per lo sviluppo. Sono seguiti poi gli interventi del direttore generale, dottor Luigi Tapanelli, e del rettore Corradini. Ospite quest'anno il dottor Fabrizio Barca, dirigente generale del Ministero delle Economie e delle Finanze, che ha tenuto una relazione sulla strategia nazionale per le aree interne. La prossima settimana andrà in onda un servizio più approfondito sulla cerimonia. In occasione del Darwin Day 2014, in cui si celebra l'anniversario della nascita dello scienziato inglese, che ha profondamente cambiato la storia dell'umanità grazie alla formulazione della teoria dell'evoluzione, il polo museale Unicam ha promosso lo scorso 12 febbraio l'evento Io sono un geologo, in collaborazione con Unica Mert, dottorato di ricerca in didattica delle scienze della Terra. Una giornata dedicata alle prime e secondi classi dei licei di Camerino, con laboratori e interventi che hanno riguardato proprio le intuizioni dello scienziato nell'ambito delle scienze della Terra. Nel pomeriggio poi si è tenuto un incontro dedicato ai docenti delle scuole superiori. Quest'anno abbiamo pensato di coinvolgere questo gruppo molto attivo di insegnanti che stanno facendo il dottorato di ricerca presso il nostro Ateneo, in didattica delle scienze, in particolare in didattica delle scienze della Terra. Quindi come tema abbiamo scelto Darwin geologo. Darwin naturalmente è l'autore della teoria dell'evoluzione, ma comincia da geologo e quindi una serie di tappe, di laboratori, che abbiamo pensato per le classi dei licei, che sviluppano alcuni aspetti che lui aveva colto dell'evoluzione della storia della Terra. Abbiamo diviso queste classi in vari ambienti del nostro museo a fare queste diverse attività con l'aiuto di questi insegnanti. Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento con i corsi Planet, un pianeta di giovani interessi ed attività dedicate agli studenti dell'Università di Camerino, inclusi gli iscritti alla School of Advanced Studies. L'iniziativa, promossa dall'Ufficio Stampa Comunicazione e Attività Culturali di Unicam, in collaborazione con l'Associazione Etra, Accademia delle Arti Sceniche e Visive, propone interessanti corsi dedicati al tempo libero tenuti in lingua italiana. Per la sede di Camerino si va dal corso di elementi di recitazione per teatro scientifico al corso base di fotografia, dalla decorazione e pittura con diverse tecniche al corso di elementi di dizione e fonetica. Per la sede di Ascoli Piceno, oltre alla recitazione e alla dizione, sarà possibile seguire corsi di montaggio video, di introduzione al canto e un interessantissimo corso sull'interazione tra musica e pittura. Il termine ultimo per l'iscrizione è stato fissato al prossimo 28 febbraio. Tutte le informazioni relative agli orari e dal periodo di inizio dei diversi corsi sono disponibili nel sito www.unicam.it, sezione avvisi. Anche Unicam partecipa con entusiasmo al progetto La Rete dei Monti per un curriculum verticale di qualità nell'insegnamento delle scienze, che vede come capofila l'Istituto Comprensivo Tacchi Venturi di San Severino Marchi, in collaborazione con gli istituti comprensivi di Castelra e Mondo, Colmurano, Matelica, Camerino, Sarnano e Moiano. Si tratta di un progetto promosso dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico Regionale che prevede la costituzione di una rete di scuole per laboratori di formazione e ricerca. Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro in miglioconferenza sulla piattaforma messa a disposizione da Unicam che ha permesso di condividere in tempo reale tra tutti gli attori coinvolti le azioni messe in atto. Tale modalità, trasmessa in tutti gli istituti della rete, consentirà dunque un diverso approccio alla sperimentazione nella fruizione delle nuove tecnologie e favorirà un'ampia partecipazione. Bene, con questo è tutto. Io mi fermo qui. L'appuntamento con Unicam torna mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni sull'Università di Camerino nel sito www.unicam.it Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per la visione.